Perché non fai video su Ronaldo? Alcuni di voi giustamente me lo hanno chiesto e adesso vi voglio rispondere. Io ragazzi non faccio video su Ronaldo perché non me ne fotto un cazzo, non me ne fotto un cazzo. A parer mio la Juventus ha già vinto lo scudetto del 2019, quindi con o senza Ronaldo se fosse per me glielo darei adesso lo scudetto alla Juventus per evitare inutili costi di fuochi d'artificio vari, ecco. Tra l'altro negli ultimi 3-4 giorni sono usciti 57 video su Youtube Italia riguardanti Cristiano Ronaldo, quindi se io mi mettessi a fare adesso il 58esimo video magari presenterebbe lo stesso contenuto del 36esimo, quindi non servirebbe a una ceppa. Ragazzi questa faccenda finirà in due modi, o Cristiano Ronaldo non fermerà con la Juventus e tutti quei 57 video andranno a farsi fottere, oppure Cristiano Ronaldo fermerà con la Juventus e l'unico video che veramente importerà sarà quello dell'ufficialità e gli altri 57 video si perderanno nell'ombra. Questa è la verità, semplicemente così. Però, visto che me l'avete chiesto alcuni di voi, ecco qui il mio video su Cristiano Ronaldo. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di un nuovo argomento su Youtube Italia, ovvero Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano Ronaldo vuole la Juventus e la Juventus vuole Cristiano Ronaldo. Un'incredibile coincidenza che potrebbe portare clamorosamente e aggiungerei calorosamente, considerando la temperatura, il giocatore portoghese di origini portoghesi a Torino. Si parla di un costo complessivo di 100 milioni di euro più 30 milioni per lo stipendio, 30 milioni che potrebbero essere ricoperti dai costi del merchandising. E adesso che vi ho detto quello che voi già sapevate, posso finalmente chiudere qui il video... Non ho capito? Ah, davvero? Adesso informo, adesso informo. Mi dicono dalla regia che la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è appena tinta i capelli di bianco e nero. Un segnale importante, quello di Cristiano Ronaldo, che potrebbe spingere la società bianconera a provare un'accelerata nelle prossime ore. Anche se, a dire la verità, io l'accelerata la proverei molto volentieri per la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Piccolissima, piccolissima battuta, ecco, per stemperare la tensione. Cosa? Non ho capito. Apure. Ma davvero? Adesso informo. Adesso informo. Continuano ad arrivare notizie nuove alla regia. Abbiamo appena saputo che il figlio di Cristiano Ronaldo, il primo genito di Cristiano Ronaldo, ha appena comprato due gormiti, due wings, due wings, ha appena comprato due wings, una bianca e una nera. Questo qui non soltanto a dimostrazione del fatto che la famiglia Ronaldo non è razzista, ma anche a dimostrazione del fatto che, come non vi ho ancora detto, la Juventus potrebbe provare un'accelerata nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nonché nei prossimi mesi e anni, per portare Cristiano Ronaldo a Torino. Adesso che abbiamo finalmente finito di parlare di Cristiano Ronaldo, possiamo finalmente aprire una parentesi su Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Questo splendore. Perché continuate ad interrompermi? Cosa? Ah, giusto, mi sono scordato. Perdonami, perdonami. Adesso informo. Mi sono scordato di dirvi che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia, inclusa Georgina Rodriguez, stanno cercando casa a Torino. Questa qui, ovviamente, è una notizia che potrebbe spingere il sottoscritto a trasferirsi a Torino. Ovviamente non per Cristiano Ronaldo. Altra battutina, ecco, per stemperare la tensione. Non fa ridere? Perché non fa ridere? Non capisco. Sono stati pubblicati 57 video su Cristiano Ronaldo e neanche uno su Georgina Rodriguez. Ma di che cosa stiamo parlando? Neanche questo fa ridere. Io non riesco a capire. Siamo tutti omosessuali sul web. Beh, ragazzi, spero che abbiate compreso, diciamo, l'ironia di questo video. Io non volevo parlare di Cristiano Ronaldo, anche perché ormai si è già detto tutto sul web. Perciò ho voluto farlo in maniera molto ironica. Ecco. E niente, se vi è piaciuto il video, questo video, questa grandissima boiata, allora mettete like, fatemi sapere se ne volete altre di queste cazzate. Iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo, ovviamente... Sì... Nei prossimi video. Yeah.